Buongiorno, buongiorno con le stelle, rubrica astrologica a cura di Monica Marillis. Buongiorno, oggi è il 22 ottobre e io sono Monica Marillis e insieme guardiamo com'è la situazione di questa giornata a livello astrale. La luna si trova sempre nel segno del toro, questo segno concreto, pragmatico, terrestre, amante della vita naturale ma anche della vita piacevole, quindi dei piaceri della tavola, dei piaceri erotici, dei piaceri che sono anche legati a un vivere nella natura. Ma purtroppo sia la luna che altri pianeti stanno formando dei rapporti di tensione tra loro, per esempio la luna formerà nel corso della giornata un quadrato a giove, questo indica una sorta di insoddisfazione su tutto, si potrebbe cadere facilmente nella lamentela e potrebbe non sembrarci mai abbastanza tutto quello che c'è, che esiste nella nostra vita. Anche Venere che si trova nel sagittario un segno aperto che guarda lontano e sportivo a cui piace viaggiare e che accoglie con favore la differenza tutto ciò che è esotico, però in questa giornata e nelle prossime Venere forma un quadrato con Nettuno e quindi anche qua si rischia di cadere facilmente nelle illusioni, nel fatto di non essere molto chiari con se stessi, con i propri sentimenti. Questo inciderà soprattutto sui segni mobili, ovvero sagittario, pesci, vergine e gemelli. Saranno questi i segni che più facilmente si lasceranno confondere le idee da sostanzialmente da quelle che sono illusioni. Del quadrato Marte-Plutone abbiamo già parlato nei giorni scorsi, comunque è sempre una situazione che si rafforza, questo quadrato si perfeziona proprio oggi e è una specie di scontro tra poteri, poteri forti. Marte è il maschile, l'aggressività, è l'asserzione, mentre Plutone è un altro tipo di potere più sotterraneo ma altrettanto forte. Il simbolo di Plutone è il seme che sottoterra preme per emergere e quindi rappresenta anche la creatività. Nel suo lato luminoso Plutone è proprio la potenza creativa, ma questi due pianeti si bloccano a vicenda in una specie di braccio di ferro, quindi per qualche giorno si risentirà di questa situazione. Ci sarà un po' un impasse, non riusciremo facilmente a sbloccare delle situazioni che invece andrebbero sbloccate. Ma vediamo cosa succede con la luna in toro rispetto agli ascendenti, a dove abbiamo l'ascendente. Continuo a ricordarlo perché magari qualche ascoltatore non ha seguito gli oroscopi dei giorni precedenti e l'ascendente che però è ormai un fattore abbastanza riconosciuto, un fattore astrologico abbastanza riconosciuto. Infatti quasi tutti dicono ah sì sono toro ascendente capricorno, cioè quasi tutti conoscono il proprio ascendente ma non sanno esattamente che cos'è. L'ascendente è il segno che si leva all'orizzonte al momento della nascita e ovviamente si leva all'orizzonte nel luogo in cui si è nati. Quindi è l'interazione. L'ascendente rappresenta la cuspide della prima casa, ci sono 12 case così come ci sono 12 segni e l'ascendente, le case rappresentano il rapporto tra il luogo, quindi dove noi siamo nati e il cosmo. Non solo quindi il momento in cui siamo nati ma anche il dove e quindi questo è interessante. e le 12 case che hanno molte analogie con i 12 segni rappresentano gli ambiti dell'esistenza in cui si esplicano le caratteristiche, la natura dei pianeti. Quindi è quello che fa, che rende un tema natale individuale. Ebbene la luna quindi in toro vediamo che impatto ha sui diversi ascendenti, ovvero se per esempio qualcuno ha l'ascendente in ariete avrà quella luna in toro probabilmente la luna nella seconda casa, ma vediamo ascendente per ascendente. Ebbene comincio proprio dall'ariete perché nel nostro zodiaco l'ariete è il primo segno, quello il segno che dà l'inizio alla primavera. Ebbene la luna in toro cade probabilmente nel tema natale di chi ha un ascendente ariete nella seconda casa, in una casa che corrisponde proprio al toro, quindi all'immagine, all'immagine di sé, al valore che si dà a se stessi e per estensione anche al valore che diamo ai valori, ovvero al denaro. Quindi quando la luna cade nella seconda casa è bene fare una considerazione sulle cose a cui diamo veramente valore, sulla nostra autostima e anche come gestiamo i soldi, quindi magari dare un'occhiata ai nostri conticini. Con l'ascendente toro invece la luna in toro è nella prima casa. Quindi tutto l'accento cade su di sé, sulla propria persona, sulle proprie cose, sulle proprie reazioni a ciò che ci accade. Quindi faremo più attenzione a chi siamo e cosa facciamo e che impatto abbiamo sugli altri. Con l'ascendente gemelli la luna in toro cade invece nella dodicesima casa, la casa del caos creativo dove tutto è possibile, dove tutto può emergere. Quindi una casa in cui connettersi alla nostra interiorità e far emergere un'intuizione, un pensiero, una nuova idea, qualcosa di nuovo. Con l'ascendente cancro la luna in toro cade invece nell'undicesima casa, molto probabilmente perché le case hanno una ampiezza variabile, non sono come i segni che sono di 30 gradi ciascuno, sul cerchio dello zodiaco, sono suddivisi appunto 12 segni per 30 gradi ciascuno, per i 360 gradi del cerchio zodiacale. Invece le case hanno un'ampiezza variabile, quindi non è detto che con l'ascendente cancro la luna sia proprio nell'undicesima casa, potrebbe essere nella dodicesima o nella decima. Per questo bisogna conoscere il proprio tema natale e sapere appunto dove, in che gradi cadono le varie case. Comunque probabilmente con l'ascendente cancro la luna sarà in undicesima casa e quindi è la casa delle amicizie, la casa delle alleanze, la casa in cui ci connettiamo agli altri, anche in modo ideale, quindi dove creiamo qualcosa in comune, quindi sarà bene aprire la nostra casa agli amici o uscire e richiamare qualcuno, qualche amico che non vediamo da tempo per esempio. Con l'ascendente in leone la luna in toro cade nella decima casa, la casa dell'autonomia, della propria indipendenza e del proprio successo, soddisfazione personale. Spesso questo si traduce in obiettivi di carriera, di lavoro, è dove più facilmente traiamo le nostre soddisfazioni, la nostra autorealizzazione, quindi per l'ascendente leone la luna in toro si traduce proprio in una particolare attenzione a tutte le questioni di carriera più che di lavoro, di realizzazione personale e professionale. Con l'ascendente vergine la luna in toro cade nella nona casa e qui la casa è quella del lontano, dei viaggi ma anche dell'educazione superiore e quindi magari è un momento ottimo per decidere un corso di formazione dove appunto migliorare le nostre conoscenze, le nostre competenze. Con l'ascendente in bilancia la luna in toro cade nell'ottava casa e l'ottava casa è questa casa un po' dove possiamo rinascere dalle nostre cenere, quindi dove ritrovare le nostre risorse interiori più importanti, ma a volte è anche dove dobbiamo lasciare andare ciò che è passato, quindi gli ascendenti in bilancia potrebbero aver bisogno di ritirarsi un po' in se stessi per capire quali sono i valori che vogliono portare avanti e anche qua però è anche una casa che può avere a che fare con i soldi, soprattutto con debiti e tasse, quindi facciamo attenzione. Con l'ascendente scorpione la luna cade in settima casa e quindi è il rapporto con gli altri ad avere grande importanza in questi giorni con la luna in toro e soprattutto con il proprio partner. Con l'ascendente sagittario la luna in toro nella sesta casa e questa è la casa della vita quotidiana, della routine, delle abitudini, dei piccoli riti, ma anche del lavoro, quindi del fare, delle cose concrete e anche una casa di attenzione alla salute, quindi è bene prendersi cura della propria salute in questi giorni con la luna in toro per l'ascendente sagittario. L'ascendente capricorno vede la luna in toro nella sua quinta casa e la quinta casa è la casa del divertimento, degli hobby, dell'espressione di sé, quindi è importante dare espressione a se stessi, ai propri talenti, a quello che abbiamo dentro. È anche la casa dei bambini, dei figli e anche però del sesso e dell'amore, quindi sono tutti ambiti a cui dare spazio in questi giorni. Se si hanno figli, trascorrere del tempo con i figli, se si è in coppia, dare del tempo, trascorrere il proprio tempo di qualità insieme alla persona con cui si sta. Con l'ascendente acquario la luna in toro si trova nella quarta casa e quindi la casa della famiglia, dell'abitazione, di solito della famiglia d'origine ma per estensione anche della famiglia che poi ci si costruisce. Quindi anche qui diamo spazio ai nostri familiari, allo stare in famiglia o un altro modo per spendere bene questo periodo con la luna in toro è quello di fare magari dei lavori in casa, fare delle migliorie, insomma dedicarsi allo stare in casa. E con l'ascendente pesci invece la luna in toro sarà nella terza casa e quindi una casa sociale, una casa in cui fare attenzioni alle nostre relazioni quotidiane che possono essere quelle dei vicini di casa, degli amici che magari non sono gli amici con la maiuscola ma le conoscenze, anche il pettegolezzo, il chiacchierare. Sono attività in sintonia con questa casa e ovviamente si è fatta in modo benevolo ma anche l'interessarsi dell'attualità, delle cose che succedono nel mondo è un'altra attività in sintonia con questa casa. Bene abbiamo visto gli ascendenti come reagiscono alla luna in toro e vi ricordo che se volete sapere di più sul vostro tema natale quindi capire dove avete alla nascita i vari pianeti, le varie case potete sicuramente cercare su internet quei siti, li trovate facilmente con una ricerca su google dove calcolano il tema natale con ovviamente la data, l'ora e il luogo di nascita, vi fanno vedere il grafico che rappresenta appunto il cerchio zodiacale con i pianeti, con le varie case, i segni eccetera eccetera e però la difficoltà sta forse nell'interpretare questa carta del cielo perché non è semplice, è come un puzzle con tanti pezzetti, il sole che è il nucleo della personalità e che quando diciamo io sono del toro o del cancro vuol dire che il sole stava passando in quel segno, in quel periodo ma ci sono tutti gli altri pianeti, la luna, venere, mercurio che rappresentano parti della psiche, sono simboli di quella che è la nostra psiche, il puzzle della nostra psiche. Ebbene per riuscire a comprendere pienamente questo puzzle forse non basta una vita ma comunque un astrologo vi può sicuramente aiutare e con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani. E dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info-monicaamarillis.com